Ciao, uomo ubriaco cerca vino, dubbi su coperto in pizzeria, richiesta singolare di stock al bar, sei pronto? Un tizio già ubriaco entra in un bar travallando e chiede Nick, Hick, Scushi, posso avere, Hick, un bicchiere di bianco? Il barista, non serviamo da bere alle persone ubriache. Il tizio esce fuori senza commenti e inciampa sulle scale del bar, cade in terra e si addormenta. Dopo un quarto d'ora si sveglia con una sette micidiale. Entra nello stesso bar e chiede Nick, Scushi, posso avere un bicchiere di bianco? Il barista, non serviamo da bere alle persone ubriache. Il tizio esce un'altra volta senza proteste, inciampa e si addormenta. Dopo un quarto d'ora si sveglia, rientra nel bar e chiede Nick, Scushi, posso avere, Hick, un bicchiere di bianco? Il barista, non serviamo da bere alle persone ubriache. Allora il tizio dice, posso avere un'informazione? Ma certo, c'è un bar in questa città dove tu non fai il barista? Dubbi amletici. Se in pizzeria mangio nella sala all'aperto, perché poi bisogna pagare anche il coperto. Un tipo entra in bar e chiede Scusi, vorrei una bottiglia di stock. 84? No, no, me ne basta una.